Ciao ragazzi, oggi continuo la mia routine di esercizi con il Pilates per cercare di migliorare l'apertura delle mie spalle con Alessia. Ciao a tutti. Mi farei fare delle cose a semicorpo libero, giusto? Sì, semicorpo libero perché utilizzeremo le wall unit che sono comunque un sistema di resistenze, molle, cinghie attaccate al muro, poi magari spiegheremo anche come integrarle per fare gli esercizi a casa, in questo caso oltre alla wall unit userò la palla e faremo degli esercizi appunto di postura insieme al potenziamento muscolare. Pronta? Perfetto, siamo pronti? E allora andiamo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.